Lo si spiffera da mesi il Partito della Nazione sintesi dell'incontro tra moderati e riformisti potrebbe ambire davvero a diventare quel soggetto trenante volto a prendere la scena della politica italiana siciliana compresa per i prossimi anni. Apporre un altro mattoncino importante in questa direzione ci ha pensato anche Davide Faraone, leader renziano nell'isola che insieme ad Alfano e Cascio ha aperto di fatta ad un'alleanza con NCD in Sicilia in vista delle elezioni nei grandi comuni e soprattutto alla regione, rafforzando così quanto avviene già a livello nazionale. A distanza di poco più di un anno e mezzo dalle elezioni sicule in tema di alleanze di candidati due domande potrebbero così essere. Quale nome per azzerare le distanze tra PD e NCD centristi e trasfughi delusi di un centrodestra in crisi di identità? Chissà che l'ex ministro di Cidalia più dello stesso Faraone o dell'eurodeputato NCD etneo Lavia potrebbe forse ma ancora fantapolitica essere la giusta sintesi. Altro quesito alla luce di questo rassemblement nato anche per battere insieme l'ondata del Movimento 5 Stelle. Il centrodestra che fa? Miciche prova a rimettere insieme i cocci di Forza Italia ma non è facile. E poi il nome di Musumeci che non ha mai smesso in realtà di circolare. Riuscirà davvero a compattare ciò che resta della coalizione? In politica si sa, le novità sono comunque sempre dietro l'angolo di una terra che però stenta a diventare bellissima.